Alfonso Amendola chiude nono nel 2005 No Limit, quando si va al tavolo finale nono non è bello? Sì, è una grande emozione, è bello starci, è bello arrivarci, ovviamente speri di arrivare fino in fondo, fra i primi tre, poi per tentare il sogno del braccialetto. Ci ho provato per la seconda volta quest'anno, non sono riuscito. Ieri ci avevi raccontato un po' la strategia che avresti usato, cioè cercare di scalare qualche posizione, una forma un po' contenitiva, non ha funzionato? No, è perché un aggressive, un mero position, pushava sempre, ieri l'ho visto che pushava uno forte, questa volta pushato non l'ho creduto, a suo 10, l'ho voluto chiamare, lo facevo bianco, e invece avevo a suo capo. E niente da fare? E' uscito un solo 10, se la fortuna ci dava l'aiuto, secondo 10, eravamo ancora lì. Beh, comunque, quanto hai portato a casa? In questo nono, 60, 60 e mezzo, 61, 18-19 nell'altro table 10, number 10. C'è il main event adesso? Sì, ora ci rilassiamo, doccia, stress, under stress, due giorni off, andiamo per il main event, speriamo bene. Sì, ora ci rilassiamo.